Apriamo la pagina dello sport. Una delegazione di atleti di Muay Thai ha partecipato alle finali nazionali del trofeo Koni, conquistando il secondo posto. Finali che si sono disputate nei giorni scorsi nella Val di Chiara Senese in Toscana. Oltre 3100 atleti in una fascia tra i 10 e i 14 anni. E così Sonia Fiori, Anna Caggiari, Thomas Pano del Tarantini Fight Club di Sassari e Diego Lobina della Chang Peuk Gym di Cagliari si sono distinti nella loro disciplina. La rappresentativa sarda del Feder Combat è stata guidata dal maestro Vincenzo Casu.